E che ne penso? Mi dispiace che pensi questo perché io non ho mai parlato male di lei e non è vero che io faccio inciuci con Antonino e Daniele perché io con Antonino e Daniele non parlo di Patrizia, assolutamente. E quindi non capisco perché pensa che io parli male di lei, cioè mi dispiace moltissimo questo. Patrizia perché tu sei convinta del contrario? Perché è cambiata molto Vilma, nel senso il fatto di dire che comunque sono tre mesi che sono nervosa la trovo una cosa veramente al di fuori della normalità perché non è vero. Sicuramente in questo periodo lo sono di più perché ho dei problemi personali e fisici ed è ben diverso. Però certamente da quel confessionale che ho sentito l'altra volta ci sono rimasta male perché le cose ad un'amica si possono dire eventualmente in faccia, ci si può parlare. Invece Vilma ultimamente mi parla solo di vestiti, di cambi, di cose che devono arrivare da casa, non mi parla di altro. In questo Vilma, Patrizia, penso abbia ragione perché in fondo perché tu quello che hai detto nel confessionale non hai mai trovato il coraggio di dirglielo in faccia? No, io non è che non ho il coraggio, gliel'ho pure detto. Ah, gliel'hai detto? Abbiamo parlato pochissimo però ho detto che è nervoso. Una volta sola, un po' di tempo fa.